Ben ritrovati. Dopo le ferie estive, più o meno lunghe, più o meno felici, possiamo fare il punto a un anno di distanza dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge delega, la legge 111 2024, che dava al governo il compito di riformulare e riformare completamente il nostro sistema fiscale, dobbiamo fare qualche riflessione. E la prima osservazione da fare è che a distanza di un anno, fermolestando che il cammino attuativo, quindi i vari decreti legislativi, ancora è da completare, come è naturale che sia, c'è da osservare che è stato differito al 31 dicembre 2025 l'approvazione finale dei testi unici, attualmente ne sono previsti 29, che dovrebbero fare da corollario a tutto questo complesso progetto di riforma. Ebbene, ciò premesso, l'attenzione dei contribuenti, ma soprattutto di noi addetti ai lavori, era essenzialmente riservata alla semplificazione fiscale, è un tema delicatissimo, assai sensibile, che è stato oggetto di discussioni estenuanti che ormai da decenni si ripropone e fino ad oggi, a dir da tutto, è sempre stata una promessa rimasta tale, quindi soltanto sulla carta. Ebbene, dalla lettura però del decreto legislativo 9 del 2 maggio 2024 e dalle due successive circolari illustrative, la numero 8 e la numero 9 rispettivamente emanate ad aprile e da maggio sempre del 2024, si ha la sensazione di fondo che la montagna abbia partorito un topolino. Questo perché intanto per il 2024, come è ormai oggettivo ed inconfutabile, la semplificazione non ha prodotto nessun effetto, gli adempimenti non sono certamente diminuiti e a dirla tutta, semmai la nostra vita si è complicata perché oltre a doverci confrontare con quelli che sono le scadenze correnti, abbiamo già dovuto affrontare comunque lo studio della riforma fiscale, aggravato peraltro dalla valutazione di convenienza del concordato preventivo biennale annuale per riforfettare, perlomeno in questa prima fase, e certamente tutto va a cavallarsi in un periodo dove le scadenze di adempimenti certamente non sono diminuiti. Quindi se volessimo fare una riflessione naturalmente molto sintetica per il tempo che qui è concesso in sede di queste piccole pillole, è evidente che il progetto di semplificazione fiscale è ben lungi dall'essere attuato ed anzi se da un lato si può accogliere certamente con favore alcune modifiche normative come per esempio una sicuramente apprezzabile diminuzione delle sanzioni, anche qui con una curiosità, siccome il sistema sanzionatorio, la riforma entra in vigore dal 1 settembre 2024, per le violazioni relative al 2023, se emergono dalle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate, entro il 31 ottobre si applicheranno le norme più favorevoli. La stessa violazione riferita all'IVA che è già stata presentata nella dichiarazione aprile 2024, evidentemente sarà colpita questa violazione da norme più pesanti. Quindi curiosa, la stessa fattispecie che rileva i fini dei libri e delle dirette viene colpita in maniera diversa proprio in relazione al tempo di presentazione della dichiarazione. Ma fatta salva questa considerazione, peraltro una delle tante amenità del nostro sistema fiscale, ad oggi sul versante della semplificazione effettivamente non possiamo dire che si è visto granché. Fra l'altro c'è da osservare che all'orizzonte si profila un altro spettro per così dire, questa volta non imputabile al nostro legislatore, ma in ricepimento di un'attiva comunitaria probabilmente saremo costretti a pubblicare, così come già avviene per il bilancio delle società di capitali, anche quelle delle società di persone. Quindi semmà un ulteriore adempimento che tutto sommato mal si tempera con questa idea di semplificazione che da decenni appunto abbiamo sotto mano, abbiamo sotto attenzione come elemento fondamentale che dovrebbe in qualche modo essere esaminato con grande attenzione al nostro legislatore per rendere la nostra professione non così opprimente e densa di adempimenti. Naturalmente non possiamo ancora dare un giudizio definitivo, non possiamo, riferisco agli addetti ai lavori, non uso il plurale maiestatis, dobbiamo attendere sicuramente ancora prima di fornire un giudizio definitivo su questa vicenda, ma dalla lettura delle norme attuali oggettivamente non ci sono motivi per essere particolarmente diciamo contenti di quello che potrebbe avvenire. Vedremo, sperando di essere smentiti, allora in quel caso naturalmente sarò ben lieto di scusarmi. Alla prossima occasione, vi saluto.